Oscar Aiello con una lunga carriera politica alle spalle per tanti anni consigliere comunale a Caltanissetta, coordinatore provinciale della Lega a Caltanissetta adesso corre per le regionali. Prima l'Italia, un progetto che parte da Matteo Salvini un progetto ad ampio raggio però. Esatto, un progetto ambizioso prima l'Italia è stata lanciata come idea da Matteo Salvini e ha subito colto in maniera favorevole il consenso di altre forze moderate uguali l'UDC, anche l'MPA. Si tratta di un nuovo soggetto politico un contenitore politico che vuole ambire a diventare il partito unico del centrodestra moderato in Italia questo in prospettiva più futura e non nell'immediato. Nell'immediato invece Prima l'Italia esordirà a Palermo le elezioni comunali del 12 giugno e poi anche per le elezioni regionali che si svolgeranno in autunno quindi è l'evoluzione della Lega che includerà anche altre forze politiche. Il tuo impegno a Caltanissetta è stato vastissimo, lo sanno tutti. Adesso il salto alla regione siciliana ci sarà un grande affare. Qual è il tuo programma? Io intanto ringrazio Matteo Salvini e il partito per avermi offerto l'opportunità di correre per un seggio all'Ars colgo anche l'occasione per ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto durante la mia permanenza nella Lega come coordinatore provinciale. Faccio gli auguri di buon lavoro a Bocca al Lupo, a Michele Vecchio il nuovo responsabile provinciale. Come ho detto prima Salvini mi ha offerto la possibilità di candidarmi per questo ho dovuto lasciare il ruolo di coordinatore provinciale perché in un partito serio si fa così chi gestisce il partito non lo può gestire a proprio uso e consumo, chi vuole candidarsi deve farsi il candidato e lasciare gestire il partito in maniera terza e imparziale ad altri per questo subentra Michele Vecchio al mio posto. Adesso ci metteremo al lavoro, metterò a disposizione la mia esperienza maturata a Pralzo del Carmine dove svolgo il ruolo di consigliere comunale dal 2009 e voglio mettere la mia esperienza a disposizione dell'intera provincia di Caltanissetta. Anche perché Oscar Aiello per chi non lo sapesse è stato sempre un consigliere comunale particolare perché Oscar non si ferma alle semplici sedute comunali o alle semplici interrogazioni, Oscar è un consigliere che da sempre si batte, incontra i cittadini, va sui luoghi dove vengono segnalati dei problemi, è un consigliere che si è sempre sporcato le mani. Io tanto grazie per darmi la possibilità di spiegare il perché. Io ho fatto semplicemente il mio dovere di politico, in questo caso di consigliere comunale, che esercita il proprio ruolo principalmente per strada e poi formalizza le stanze raccolte per strada all'interno dell'aula consigliare. Mi avviso che bisogna stare sul territorio ad ascoltare quelle che sono le stanze, i problemi del cittadino e poi proporre, diventare loro portavoce e portare le loro stanze in quel caso al Comune e poi spero all'interno del Parlamento regionale. Anche perché la Sicilia è devastata come tutta l'Italia dopo la pandemia soprattutto. C'è un grande affare, c'è bisogno soprattutto di chi non sta a palazzo ma di chi sta a contatto con la gente. Ed è proprio questo quello che Oscar Aiello continuerà a fare se dovesse diventare deputato regionale. Esatto, ci sono due tipi di politici, quelli che si chiudono nelle stanze delle segreterie, nel palazzo e chi come me invece ha preferito stare per strada, sporcarmi le mani, le scarpe, a vedere quelli di presenza, cioè con i miei occhi, quelli che sono i problemi, ad ascoltare le lamentele, le proposte, le stanze dei cittadini, ma fare semplicemente appunto il dovere di rappresentante del cittadino, di rappresentante istituzionale. Chi non vive per strada e non conosce quelli che sono i problemi reali non potrà mai dare delle soluzioni e parlare veramente dei problemi degli italiani, degli inseni in questo caso. E a parte la politica, Oscar ha un curriculum di tutto rispetto, stai per prendere la terza laurea. Questo sinceramente non lo volevo dire, quelle sono diciamo mie... È importante dirlo, hai già due lauree, in che cosa diciamolo, per chi non ti conosce quale sarà la terza? Sì, allora io sono tanto avvocato, quindi nasco come laureato in giurisprudenza, poi mi sono abilitato alla professione forense, poi mi sono iscritto dopo l'abilitazione, ancora fresco di studi e dell'abilitazione in economia. Grazie alla seconda laurea ho fatto il manager, anche perché l'ho ereditato dalla mia precedente esperienza per una grande multinazionale, e poi soltanto già le materie delle due lauree, perché poi prendere un'altra, basta avere un piano di studi compatibile, questo anche per spiegare un po' come funziona, anche perché poi quello è il mio attuale lavoro, mi occupo anche di questo, e quindi ho fatto un investimento su me stesso, perché la politica, quella è una passione, è un servizio, non è un lavoro, oggi la politica c'è, domani potrebbe anche non esserci, potrei fare fare ad altri, potrei mettermi da parte, ma il lavoro è un'altra cosa, è sul lavoro anche investito, a differenza di altri che magari si cullano del fatto di avere un piccolo ruolo politico, ma quello non è un lavoro, anche perché per poter fare politica in maniera libera, senza condizionamenti, senza vincoli, bisogna essere autonomi, non bisogna dipendere dal gettone di presenza, non bisogna dipendere dallo stipendio, altrimenti poi uno diventa schiavo della poltrona, non può prendere delle decisioni libere, e io posso dire con saluta serenità che sono un uomo libero, non ho scritto all'armadio, non devo dire grazie a nessuno, se non alla mia famiglia per l'educazione che mi hanno trasferito, e posso permettermi di fare politica in maniera assolutamente libera da qualsiasi tipo di condizionamento. Infatti, per me che conosco Oscar da tantissimo tempo, posso affermare che Oscar ha sempre lavorato, ha sempre studiato e si è sempre dedicato alla politica. Per quanto riguarda il nome del Presidente della Regione, si sa già qualcosa? Questa è una bella domanda e diciamo anche difficile, difficile perché è impossibile rispondere ad oggi. Stiamo assistendo a un teatrino della politica non molto edificante perché presentarsi agli occhi degli elettori a pochi mesi dalle elezioni di Palermo, perché poi è collegata con le elezioni regionali, senza un candidato unico di centrodestra e di conseguenza poi si ripercuota appunto sulle elezioni regionali, è come se commettessimo sempre gli stessi errori, però io sono molto ottimista e fiducioso, spero che dopo la tempesta arrivi la quiete, con un candidato unico per sindaco di Palermo e di conseguenza anche per la presidenza della Regione. Musumeci non verrà appoggiato se dovesse decidere di ricandidarsi? Il mio partito già si è spesso in maniera chiara e diretta, ma penso anche tutti gli altri partiti del centrodestra hanno manifestato una volontà diversa rispetto a quella di Musumeci. Io rispetto sia questi partiti centrodestra che Musumeci, del resto non sarò io a decidere, spero che possa prevalere il buon senso per poterci presentare uniti, altrimenti come vi ho visto sia a Caltanissetta ma anche altrove, a Roma, ma anche iniziando le campagne elettorali in ritardo come Milano, poi si perde e non mi sembra il caso di lasciare la città di Palermo nelle mani del centrosinistra che la governata e amministrata come vediamo, come sappiamo e soprattutto la Regione, la Regione siciliana che poi dopo qualche mese vedrà i siciliani impegnati anche per le elezioni nazionali dopo qualche mese. quindi li dobbiamo trovare e spero che possa accadere nella quadra come tutti sperano.